Musica Durante tre giorni in zona rossa prevale il buonsenso, tranne a Ribera, che era già in lockdown, in videomostra, musica e fuochi d'artificio in piazza. Muore un avvecato 45 anni, si era sottoposto da AstraZeneca, vaccinato con Moderna il più anziano d'Italia e di Calta Bellotta. Il governo regionale propone al Ministero delle Infrastrutture di finanziare dei progetti per Palma, Licata e Ravanusa. Ok alla procedura per la creazione della riserva naturale. Ben trovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. C'era molta attenzione da parte delle istituzioni per questi tre giorni di Pasqua in zona rossa. Il bilancio può ritenersi positivo con l'aumento dei controlli delle forze dell'ordine e il buonsenso da parte della maggioranza della popolazione. Stessa cosa non può dirsi a Ribera, zona rossa dallo scorso 23 marzo. Sui social infiamma la polemica per un video girato in piazza alla fine della messa nel quale si vedono tra gli altri il sindaco Matteo Ruvolo con fascia tricolore e i componenti del comitato di Pasqua. A Ribera sono stati fatti esplodere dei giochi d'artificio con la musica trasmessa da un altoparlante senza banda. Il nostro direttore Arturo Cantella. Il bilancio è positivo con l'aumento dei controlli da parte delle forze dell'ordine, carabinieri, polizia stradale, municipale, provinciale, guardia di finanza e il buonsenso da parte della maggior parte della popolazione che ha tenuto un comportamento conforme alle regole imposte dal Covid. Alla fine soltanto se le persone multate con 400 euro a testa trovate in giro senza motivazione e che hanno provato a giustificarsi in qualche modo con voglio farmi un giro a San Leone. Due locali chiusi ai quali vengono contestati violazioni enorme anti-Covid. Il primo episodio è avvenuto venerdì santo quando i militari e la guardia di finanza hanno sorpreso un bar aperto con i clienti seduti al tavolo. Per tutti è scattata la multa e la chiusura di cinque giorni per l'attività. Altra chiusura è avvenuta a Cattolica d'Aclea per lo stesso motivo. Sono stati sanzionati sia il cliente che il titolare del locale con una multa di 400 euro ciascuno. La caffetteria è stata imposta inoltre la chiusura per cinque giorni. Intanto è polemica per quanto è avvenuto a Ribera, già zona rossa dallo scorso 23 marzo, per una preoccupante escalation di casi che fanno del comune Crispino il terzo in provincia per numero positivo al Covid. Alcuni filmati nelle ultime ore stanno letteralmente rimbalzando sui social. con immagini che immortalano la festa con musica diffusa dall'altoparlante della Chiesa Madre e fuochi di artificio in piazza. Una scena che non è passata inosservata ai tanti cittadini di Ribera che nelle bacheche dei social hanno potuto esprimere il loro dissenso per quanto visto. Intanto in merito a quanto accaduto alla fine della messa celebrata nella Chiesa Madre è intervenuto il comitato della Pasqua di Ribera. La partecipazione alla celebrazione religiosa è stata dettata unicamente dal desiderio di onorare la maggior ragione in un momento particolarmente difficile della nostra comunità. La ricorrenza pasquale, cui tutti i riberesi sono tanto legati, si legge nella nota stampa, si chiede pertanto scusa alla cittadinanza a nome di tutto il comitato, se alla fine della messa, spinti dai ricordi e dall'emozione che la festa pasquale suscita nel cuore di tutti noi riberesi, ci si è fatti trascinare dal momento creando imbarazzo alla cittadinanza e al sindaco della città che era presente alle celebrazioni religiose in vesta del suo ruolo istituzionale. Non è la nostra intenzione, afferma il comitato cittadino, urtare la sensibilità di alcuno in quanto tutti noi siamo a conoscenza della situazione delicata in cui versa la nostra ribera, ci scusiamo nuovamente per quanto accaduto, confidando che i nostri cittadini comprendano anche la nostra buona fede. Intanto da oggi la Sicilia torna in zona arancione fino al prossimo 30 aprile, ricordiamo che è consentito spostarsi all'interno del proprio comune tra le 5 e le 22 di ogni giorno, mentre gli spostamenti verso gli altri comuni e quindi anche quello verso altre regioni sono consentite esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È consentito inoltre il rientro del proprio residenza, domicilio e abitazione e resta cosiddetto il coprifuoco dalle 22 fino alle 5 del mattino. Intanto in merito ai contagi in provincia di Agrigento continuano a salire, ne sono stati riscontrati ultimamente 94 nella giornata del 5 aprile su 450 tamponi eseguiti nei giorni 3 e 4 aprile, i test processati da inizio pandemia sono 71.824. Il bollettino dell'Aspi di Agrigento riporta una nuova vittima, si tratta di un decesso di una persona di classe termini avvenuto nella giornata del 1 aprile. Si registra altresì un nuovo ricovero e 49 guarigioni, 52 le persone ricoverate negli ospedali, 36 si trovano a San Giovanni di Dio, di Agrigento, 11 a Sciacca, 5 all'ospedale di Ribera, 10 le persone ricoverate all'hotel Covid di Sciacca, 15 le persone in terapia intensiva, 8 all'ospedale di Agrigento e 7 a Sciacca. Non accenna ad arrestarsi la curva dei contagi a Canicattì. La contagiosità del virus sta colpendo molti nuclei familiari, dichiara preoccupato il sindaco Ettore Di Ventura. Nuovi casi sono tutti sottoposti a trattamento domiciliare. Siamo in stretto contatto con il Dipartimento di Prevenzione dell'Aspi di Agrigento per monitorare la situazione che nelle prossime ore potrebbe portare alla richiesta di attuazione della zona rossa nella nostra città. Concludo il primo cittadino. Dopo il mini lockdown di Pasqua si torna al sistema colori, ma niente zone gialle. Draghi prevede un lockdown soft per quasi un mese. L'Italia resta chiusa fino a un nuovo ordine. A riaprire saranno soltanto le scuole, almeno fino alla prima media. Vediamo. Dopo il weekend di Pasqua in mini lockdown, la Sicilia torna in fascia arancione. Si allentano le restrizioni, i negozi riaprono e vigono la libertà di spostamento all'interno del proprio comune. Non si potrà uscire infatti dal comune se non per lavoro, salute o necessità. Intanto il dato di Pasquetta fa registrare oltre 900 positivi. Nell'ultima settimana sono aumentati del 20% positivi in Sicilia. Preoccupa molto Palermo che è ad un passo dalla zona rossa. Ieri ha registrato oltre la metà dei nuovi contagi di tutta l'isola. Nel fine settimana di Pasqua a città blindate e controlli a Petrosino è stata scoperta una bisca con 15 persone assembrate, come se nulla fosse alla faccia della zona rossa. Sul fronte vaccini negli ultimi giorni si è avuta una diminuzione delle dosi medie giornaliere somministrate. Intanto c'è un'altra inchiesta legata al vaccino AstraZeneca in Sicilia. Il governo nazionale nel frattempo studia il roadmap per le prossime settimane per capire se ci sono i margini per programmare le riaperture. Sono 909 nuovi casi al coronavirus. In Sicilia Pasquetta su 7.561 tamponi processati. Il tasso di positività schizza al 12%, ma è evidente che nel compito dei test non sono stati conteggiati gli antigenici. 20 morti in un giorno, restano pochissimi guariti, appena 36 quelli messi a referto. Crescono ancora i numeri ospedalieri. Da inizio pandemia sono 179.565 siciliani contagiati dal virus, 4.717 le vittime, 151.143 le persone guarite. I dati relativi ai contagi da Covid-19 nell'ultima settimana in Sicilia elaborati dalla protezione civile mostrano un ulteriore peggioramento della situazione. Nella settimana appena trascorsa i nuovi positivi sono stati 7.500, il 20.5% in più rispetto alla precedente. Non si superavano la soglia dei 7.000 nuovi positivi in una settimana dallo scorso gennaio. Sale anche il numero degli attuali positivi pari a 22.852, 5.852 in più, così come sono in crescita le persone in isolamento domiciliare. Anche pazienti Covid ricoverati in ospedale superano nuovamente quota 1.000, sono esattamente 1.127 di cui 153 in terapia intensiva. Rispetto alla settimana precedente sono aumentati di 154 unità, in terapia intensiva sono aumentati di 24. L'unico dato positivo è rappresentato del calo percentuale del numero delle vittime. Nella settimana passate morti sono stati 114 e il 25.5% in meno rispetto ai 153 della settimana precedente. L'uomo più anziano d'Italia vive a Caltabellotta, in provincia di Agrigento. Si tratta di Antonino Turturici, 109 anni di età. Turturici si è appena sottoposto al vaccino anti-Covid nella sua casa di Caltabellotta, dove dimora insieme alla figlia, al genero e ai nipoti. È giunta a domicilio un'equip dell'azienda sanitaria di Agrigento che gli ha inoculato il vaccino Moderna. È stato lo stesso centenario a prestare il consenso alla vaccinazione. È morto al policlinico di Messina a causa di un'emorragia a celebrare. Un avvocato di 45 anni, l'uomo originario di Tusa, era stato sottoposto al vaccino AstraZeneca nelle scorse settimane, pochi giorni dopo dalla somministrazione del siero, ha cominciato ad accusare forti mal di testa. c'è il servizio. Una notizia che ha lasciato nello sgomento la piccola comunità tusana, la prematura scomparsa dell'avvocato Mario Turrisi. Il professionista tusano, dopo essersi sottoposto al vaccino AstraZeneca nelle scorse settimane insieme ad altri avvocati, ha accusato forti dolori alla testa ed era stato ricoverato per un'emorragia cerebrale. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime, tanto da finire in rianimazione. L'uomo, un avvocato stimatissimo del foro di patti, si era vaccinato qualche settimana fa, nella seconda decade di marzo, insieme a molti suoi colleghi all'ospedale di Mistretta, prima del blocco imposto dal governo e dal nuovo commissario figliuolo, che hanno stoppato le dosi per la categoria. Si tratta di una notizia che lascia il segno in una piccola comunità dove tutti si conoscono e hanno avuto modo di apprezzare le qualità indiscusse di Mario Turrisi, un uomo sinceramente buono, uno sul quale fare affidamento al momento del bisogno. E lo dimostrano le varie testimonianze di affetto che si leggono sui social di coloro che hanno avuto modo di rapportarsi. Per il 45enne avvocato tusano Mario Turrisi non c'è stato nulla da fare. La sua corsa in ospedale al Policlinico di Messina è evidenziata una trombosi che non gli ha lasciato scampo. Sull'accaduto adesso indaga la procura di patti, mentre immediata è stata anche la segnalazione all'AIFA. Proseguono i flussi di migranti verso Lampedusa, dichiarata zona rossa a fronte dell'aumento dei contagi da coronavirus. Nell'arco di poche ore sono approdate oltre 400 persone, prima un barcone con 215 profughi, tra cui 9 donne, 2 minori e un neonato, e poi altre 3 imbarcazioni con 70, 57 e 88 migranti a bordo. Tutti sono stati trasferiti nello spot di Contra d'Embriacola, dove attualmente sono ospiti quasi 700 migranti. Il sindaco di Lampedusa, Totò Martello, rassicura la situazione per ora a Reggio, anche perché i migranti sbarcati sull'isola non hanno alcun contatto con la popolazione e sono stati trasferiti poi sulle navi quarantena. Bene, da circa 8 mesi i vigili del fuoco in Sicilia non percepiscono i soldi dei buoni pasto. Ricordiamo che sono circa 7 euro ad ogni presenza, pertanto si sono accumulate belle cifre che i lavoratori devono mettere di tasca propria. Oltre a questo, da 8 mesi facciamo i presidi nelle autostrade CAS, perché le nostre gallerie non sono sicure, pertanto è indispensabile avere la presenza dei vigili del fuoco. Si sono accumulate tantissime economie che i lavoratori devono percepire, parliamo di circa anche 2.000-3.000 euro per vigili del fuoco che allo stato attuale vengono a mancare alle nostre tasche. Oltre a questo ricordiamo che all'hot spot di Lampedusa è la stessa situazione, da 6 mesi non vengono distribuite queste economie. In Sicilia a maggio con una mobilità nazionale verrà ridotto utilemente il personale. Quelle 300 unità che mancano verranno ancora incentivate, non verranno riclassificate sedi. Con un territorio a rischio sismico, idrogeologico ed incendi come quello della Sicilia, invece di incentivarla, viene ancora una volta saccheggiata. Noi come organizzazione sindacale USB Vigili del Fuoco Sicilia sicuramente ci faremo sentire con azioni più incisive, quali lo sciopero, i sit-in, nelle prefetture, nei tribunali, ovunque esso sia, perché i lavoratori devono percepire le loro economie, devono lavorare in sicurezza e oltre questo vogliamo che venga messa a mano sul contratto, sulla parte normativa per il riconoscimento delle nostre malattie professionali, per la nostra previdenza, che se ne deve occupare il nostro dipartimento, non dobbiamo fare assicurazioni private, perché noi soldi già ne guadagniamo pochi, pertanto vogliamo che la parte normativa del contratto venga discussa immediatamente. Sì, un decreto sostegni che è assolutamente insufficiente, che penalizza soprattutto le aziende più colpite da questa pandemia e che non basta nemmeno a pagare un mese di spese per le imprese, come per esempio gli affitti, le tasse, le utenze e purtroppo siamo ancora di fronte a un piano vaccinale che vacilla, che non è efficiente, che è stato pensato anche male e che quindi non riesce a garantire la copertura vaccinale per poter permettere l'apertura delle imprese. Occorrerebbe quindi un nuovo decreto sostegni, perché questo è assolutamente inadeguato, un decreto sostegni che vada ad aiutare soprattutto i settori più colpiti da questa pandemia, quindi mi riferisco per esempio alla filiera del settore turistico, gli alberghi, i b&b, i ristoranti, i bar, gli agriturismi, le agenzie di viaggio, gli agenti di viaggio, le guide turistiche, i taxi, gli NCC, insomma una filiera turistica che in questi anni ha sempre garantito un forte sostegno all'economia del nostro paese e che è stato un settore tra i più performanti anche rispetto al PIL che riesce a produrre. E poi comunque non dimentichiamoci, è un gradino più basso ma per questo non meno importanti, anche altri settori come il commercio, l'artigianato e il terzo settore. Noi aspichiamo un cambio di passo da parte del governo per quanto riguarda il piano vaccinale che è diventato centrale rispetto alle questioni sia sociali ed economiche di questo paese e poi attraverso questo cambio di passo sperare, perché è diventata una speranza, spero che sia più di una speranza, la riapertura delle imprese soprattutto nel settore turistico ma non solo, anche il prima dell'estate che possa garantire un ossigeno per questi ultimi mesi dell'anno che diventerebbero altrimenti veramente un dramma sia sociale ed economico per il nostro paese. L'assessorato regionale agli enti locali retto da Marco Zambuto ha stanziato 20 milioni di euro per i comuni siciliani. Si tratta di un acconto sulle risorse spettanti per il 2021 a titolo di reintigro del minorgettito derivante dell'abrogazione dell'addizionale nell'accisa sull'energia elettrica per le province e i comuni. Ai 390 comuni saranno distribuiti 11,15 milioni di euro. Alla provincia di Agrigento sono destinati 635 mila euro. L'assessore Zambuto dichiara abbiamo disposto contestualmente alla pubblicazione della legge che autorizza la proroga dell'esercizio provvisorio per altri due mesi, un ulteriore anticipo agli enti locali. È una scelta che il governo Musumeci ha fatto per andare incontro alle esigenze di province e comuni nell'attesa che con la pubblicazione del bilancio della finanziaria si sblocchi la spesa per tutto l'anno. Il governo regionale ha deciso di proporre al Ministero delle Infrastrutture il finanziamento di oltre 27 milioni di euro per due progetti all'interno del programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare. Ad essere interessati in provincia di Agrigento sono i comuni di Ravanosa, Licata e Palma di Montechiaro. Il nostro direttore Arturo Cantella. Anche la provincia di Agrigento con quella di Catania è stata scelta per i progetti presentati in merito al risanomento urbano alla regione siciliana. Rigenerare il tessuto socio-economico, incrementare l'accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici e ancora riqualificare e incrementare alloggi, complessi edilizi residenziali, sociali, migliorando così la qualità della vita dei cittadini nelle periferie di otto comuni dell'isola. Per questo motivo il governo musulmese ha deciso di proporre al Ministero delle Infrastrutture il finanziamento di oltre 27 milioni di euro per i due progetti all'interno del programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare. La regione siciliana avrà il ruolo di soggetto aggregatore, di strategie di intervento coordinate con i comuni. Il recupero e la riqualificazione delle aree periferiche, evidenzia il Presidente della regione musumeci, rappresentano uno degli obiettivi del mio governo. Con queste risorse, alle quali presto se ne aggiungeranno altre, alimentiamo un'attività edilizia e al contempo diamo decoro al tessuto urbano raccogliendo il grido d'aiuto che giunge dal nostro territorio. Puntiamo, continua musumeci, a migliorare la qualità della vita nei centri piccoli e medi, ricreando altresì le condizioni per lo sviluppo socio-economico e culturale dei comuni. I comuni interessati all'interno della provincia di Agrigento sono Ravanusa, Licata e Palma di Monteghiaro. Con questi piani, sottolinea l'assessore regionale Infrastrutture Falcone, siamo convinti dalle opere di risanamento e recupero urbano che ci hanno presentato. Il governo musumeci ha messo fin da subito fra le priorità programmatiche le riqualificazioni urbane e dunque la nostra partecipazione come soggetto proponente al programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare era doverosa e necessaria. La Sicilia continua a Falcone alle carte e regole e ora confidiamo nell'apprezzamento del Ministero. Sulla rigenerazione urbana e sul finanziamento ricevuto alla provincia di Agrigento interviene il Presidente della Commissione Territorio e Ambiente, Onorevole Giussi Savarino, affermando come la nostra provincia è stata per troppo tempo ingiustamente esclusa dai progetti di riqualificazione urbana. Adesso il vento è cambiato. Ringrazio, afferma la Savarino, il Presidente Musumeci e l'assessore Falcone, per aver inserito tra le priorità programmatiche i progetti di riqualificazione urbana da produrre al MIT. La Vanusa, Palma di Montechiaro e Licata sono comuni della provincia che mi onoro di rappresentare e che hanno davvero bisogno di accedere al programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare. La Sicilia, conclude la Savarino, ha le carte e regola per accedere al finanziamento. Adesso la palla passa a Roma, confido nella condivisione di vedute da parte del Ministero nell'interesse esclusivo della nostra terra siciliana. Il coordinatore dell'Associazione Ambientalista, Maria Amico di Agrigento, Claudio Lombardo, interviene a seguito del crollo ad Agrigento nella frazione di Cannatello e della progettazione delle opere di recupero. Lombardo afferma, da cinque anni, Maria Amico documenta e denuncia il rischio del crollo del muro che sostiene l'unica strada che porta a Cannatello. Si poteva intervenire prima con pochi soldi invece di aspettare che si spaccasse il muro sotto scarpa. Realizzato contro ogni logica ingegneristica perché questa tipologia di opere vanno realizzate in cemento armato con acciaio. Punta Bianca, ok alla procedura per la creazione della riserva naturale. C'è il servizio. Buone notizie per Punta Bianca, il sì alla procedura per la creazione della riserva naturale da parte dell'Aggiunta Comunale di Agrigento che ne ha approvato la proposta di adesione al provvedimento. L'Aggiunta Comunale della città di Agrigento, preseduta dal sindaco Francesco Miccichea, ha deliberato l'approvazione alla proposta di adesione al procedimento per l'istituzione di sito di interesse comunitario denominato Sicche e riserva naturale orientata RNO denominata Punta Bianca e Scoglio-Patella nel territorio di Agrigento. La zona comprende il territorio costero dalla foce del Vallone di Sumera al cassello di Montechiaro ricadente nei comuni di Agrigento e Palma di Montechiaro e stata dichiarata nel 2001 di notevole interesse pubblico. Nella relazione allegata si legge, si rappresenta che esiste un'area di notevole pregio archeologico, storico e paesaggistico ad esse dell'abitato della città in una zona che ricade in parte nel territorio di Agrigento e in parte in quello di Palma di Montechiaro, lungo la fascia costiera, ha un'estensione lunga di circa 7 km, allargano in profondità nella sua massima penetrazione di circa 3 km. La morfologia dei luoghi appare complessivamente caratterizzata dalla presenza dei rilievi di Monte Grande attorniato da modeste formazioni collinari e dall'aperto pianoro gelardo intercalati dalle incisioni dei corsi d'acqua e da qualche crinale isolato con spuntoni lapidei più resistenti all'erosione. Intanto le associazioni ambientaliste Marevivo e Mareamico ringraziano le amministrazioni di Agrigento e di Palma di Montechiaro per aver aderito al nostro progetto di istituzione di una riserva naturale orientata di Punta Bianca e Scoglio-Patella ricadente nei loro territori. Queste due amministrazioni hanno fatto di più nella loro proposta inviata al presidente Musumeci e all'assessore al territorio ambienti e hanno anche chiesto l'istituzione di una SIC per la stessa area. Aveva scelto di passare le festività con i parenti e proprio durante il pranzo di Pasqua sono scattate le manette per il boss Giuseppe Galvaruso, ritenuto capo del mandamento mafioso palermitano Pagliarelli. Da tempo il boss si era trasferito in Brasile e li puntava a tornare dopo la breve parentesi siciliana ma l'operazione brevis del comando provinciale dei carabinieri di Palermo ha messo fine alla sua latitanza. In manette anche altre 4 persone. I dettagli nel servizio. Cosa nostra sorprende ancora e sì perché puntava su un giovane boss per rilanciare i grandi affari internazionali. Si tratta del 44enne Giuseppe Galvaruso. L'uomo viaggiava parecchio da quando era stato scarcerato nel 2016. I carabinieri del nucleo investigativo di Palermo l'hanno fermato all'aeroporto Falcone Borsellino di ritorno da un soggiorno in Brasile che durava ormai da un anno. Il boss si era imbarcato a Natale, aveva preso un volo con scalo a Parigi. Meditava di restare a Palermo solo qualche giorno giusto per visitare i familiari. Poi sarebbe ripartito. Con lui sono state arrestate altre 4 persone. Tutti presunti mafiosi del clan di Pagliarelli che Calvaruso continuava a guidare anche dall'estero. Pagliarelli è un'ampia zona nella parte sudorientale di Palermo che da qualche tempo ormai è il laboratorio della riorganizzazione di Cosa Nostra. Era di Pagliarelli l'anziano boss VII Mineo che stava ricostituendo la cupola nel 2018. A Pagliarelli i mafiosi continuano a nascondere un gran tesoro che hanno necessità di investire in attività a loro dire lecite. Le indagini del comando provinciale dell'arma coordinate dalla procuratore aggiunto Salvatore De Luca, dai sostituti Dario Scaletta e Federica Lachioma raccontano di un grande attivismo dell'ultimo boss manager di Cosa Nostra. Calvaruso un tempo braccio destro dell'attitante Gianni Nicchi si era subito trasferito in Emilia Romagna. Dopo la scarcerazione ufficialmente lavorava come collaboratore di un'azienda edile di Rimini. Presto però si era lanciato nel settore immobiliare. I soldi non gli mancavano erano i giorni in cui condivideva una grande amicizia con un altro scarcerato eccellente Antonino Spadaro, il figlio di Don Masino, il vecchio padrino della calza, considerato il re del contrabbando. Anche Spadaro Junior viaggiava spesso fra la Sicilia e il Brasile. Due anni fa Calvaruso era riuscito a entrare in contatto con un imprenditore di Singapore. Gli aveva proposto una serie di operazioni immobiliari in Sicilia, soprattutto l'acquisto di alcuni palazzi nel centro storico di Palermo. Qualche affare era stato anche concluso. Calvaruso puntava alla ristrutturazione degli immobili, ma alcuni articoli sul suo conto finirono per insospettire gli investigatori, dice il generale Arturo Guarino, comandante provinciale dei Carabinieri di Palermo. Il livello di Calvaruso è quello di un mafioso che coniugava una grande capacità di controllo del territorio con una mentalità imprenditoriale capace di spaziare in una dimensione internazionale. Le intercettazioni dei Carabinieri di Palermo svelano. Un uomo è diventato il regente del mandamento di Pagliarelli dopo l'arresto di Mineo nel 2018, mediante il blitz cupola. Su fidato vicio era Giovanni Caruso, arrestato pure lui, assieme a Silvestre, Maniscalco, Francesco Paolo Bagnasco e Giovanni Spano. Il clan esercitava un controllo ferrio sul territorio. Gli autori di alcune rapine non autorizzate vennero violentemente pestati. I boss intervennero anche per recuperare un'auto rubata. Spesso non c'era neanche bisogno di imporsi. le intercettazioni hanno sorpreso alcuni commercianti a chiedere l'autorizzazione al clan per aprire una nuova attività. In tanti si rivolgevano ai boss di Pagliarelli per un favore, una mediazione, una soluzione veloce. Il pentito Filippo Bisconti, ex capo mafia di Belmonte Mezzagno, ha svelato che ai mafiosi si sarebbero rivolti pure gestori del pub Lord Green e alla fine boss trovarono l'accordo. E così che si giunge ad una mafia mediatrice nell'inchiesta dei carabinieri denominata Brevis, breve, piccolo. C'è un intero capitolo che riguarda le richieste dei commercianti ai boss. I magistrati parlano di spietatezza, di una fetta di borghesia cittadina per perseguire i propri interessi. Davvero in tanti sapevano di potersi rivolgere a Giovanni Caruso, il vice di Calvaruso, la mafia come alternativa allo Stato, commentano ancora i PM di Palermo. Tali meccanismi dimostrano in tutta la loro gravità l'esistenza sul territorio di Pagliarelli, di un contesto socioambientale gravemente compromesso dalla connivenza con la cultura mafiosa ancora in grado di condizionare larghe sacche della popolazione palermitana. Lutto nelle radio e tv agrigentine è morto Agostino Bellavia, il nostro direttore Arturo Cantella. La motrice è un elettrodiesel D445 che ovviamente porta con sé queste carrozze che si chiamano centoporte perché hanno più porte, poi all'interno sono degli anni 30 e all'interno hanno ancora i sedili in legno, quindi per tanto le caratteristiche sono quelle originali di una volta. Risala da alcuni anni fa nel maggio del 2016 l'intervista che vi abbiamo proposto fatto al collega Agostino Bellavia a Porto Empedocle a bordo del suo treno mezzo che amava tanto e che era parte delle sue passioni e della sua vita. Prematuramente scomparso il giorno di Pasqua per via di un male da diverso tempo lo inseguiva e che tante volte era riuscito a scamparla ma questa volta lo ha sopraggiunto. Agostino Bellavia aveva 64 anni, lascia una moglie, tre figli e due nipoti. Lo ricordiamo come un bravo collega, uno dei pionieri della tv agrigentina, quando ancora trasmetteva in analogico con le videocassette, un uomo buono e generoso con tutti e se aveva bisogno era sempre disponibile. Con lui va via un pezzo della storia agrigentina televisiva, lo ricordiamo sempre all'opera con le prime dirette del tempo, con la passione sopravvenuta dei treni, dei modellini cui dedicava parte del suo tempo senza però trascolare la sua grande passione televisiva. Agostino era anche disponibile per chi si recava all'Ace, automobili club di agrigento cui lavorava come dipendente e se aveva bisogno qualcosa cercava sempre di darti una mano. Oggi funerali presso la chiesa Madonna della Providenza, al campo sportivo, alla presenza dei tanti amici e conoscenti che gli hanno voluto dare l'ultimo saluto. Alla famiglia Bellavia Tutta, al fratello Maurizio e Calogero, al papà Luigi, alla mamma Anna, alla sorella Elsa, alle condoglianze della nostra emittente, dei soci e dei collaboratori tutti. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. I giovani dei Lions al San Giovanni di Dio di Agrigento per donare uova e colombe pasquali. Lello Casesa. Pasqua di solidarietà per i giovani del Leo Club di Agrigento, una delegazione capeggiata dal presidente Giuseppe Castelli e da diversi giovani, ha fatto visita al San Giovanni di Dio incontrando gli operatori sanitari a cui ha donato colombine uova di cioccolato. Abbiamo manifestato a medici e infermieri il nostro grazie, ha dichiarato il presidente, per quello che fanno ogni giorno in questo difficile anno sociale schiacciato dalla pandemia che ha distrutto intere famiglie. Castelli ha ringraziato tutti i giovani del club, sempre pronti e disponibili ad ogni iniziativa solidale, continuando l'impegno della nostra fondazione verso la comunità agrigentina. Borghi più belli d'Italia, Geraci Siculo sul podio, ma vince Tropea. C'è il servizio. Il titolo di Borgo dei Borghi 2021 è stato assegnato a Tropea. La bellissima località della Calabria ottiene l'importante riconoscimento e spera nella ripresa del turismo. Tutti belli i borghi italiani in gara. Sale sul podio il Comune delle Madonie, unico partecipante siciliano, cioè Geraci Siculo. Il borgo siciliano, che fa parte anche del circuito Bella Sicilia, è arrivato terzo nella corsa del titolo dei Borghi d'Italia. Un ottimo piazzamento per il Comune ricco di storia, situato vicino ad altri borghi da ammirare nelle Madonie, come Gangi e Le Due Petralie, Soprana e Sottana. Nonostante non mancano le bellezze e il vanto di un bel Comune in tutti i suoi aspetti, il Comune delle Madonie si piazza alle spalle della vincente Tropea e di Baunei, seconda classificata. Per Tropea e altri borghi in gara si aprono certamente nuove prospettive economiche e turistiche. I luoghi che hanno incantato il pubblico della trasmissione televisiva saranno certamente scelti per essere visitati non appena terminerà l'emergenza sanitaria. Sarà possibile scoprire così i tanti tesori della nostra penisola, gustando anche i piatti della tradizione locale. L'aspetto dell'ospitalità è un aspetto che ci connota particolarmente a noi di Geraci, sia come singoli cittadini ma anche come imprenditori, come rappresentanti delle associazioni. Quindi l'aspetto dell'ospitalità e dell'accoglienza è proprio un aspetto che abbiamo nel nostro DNA e quindi per noi è un aspetto molto semplice, è un aspetto molto naturale quello dell'accoglienza. Sicuramente un aspetto importante è quello di fare in modo che l'accoglienza non può essere fatta soltanto dall'amministrazione, dagli impiegati comunali, ma deve essere un aspetto diffuso, una componente diffusa della comunità. Questa fontana è un luogo simbolo del territorio anche perché poi si trova lungo la strada statale e quindi tutti passano praticamente da questo luogo e immaginiamo che ci sia l'acqua tutto l'anno. Ci troviamo a Bevaio Saraceno, ci troviamo lungo la statale La 286, che è appunto la statale che attraversa il nostro borgo e chiaramente certo c'è l'acqua tutto il giorno, l'acqua è un aspetto, una connotazione particolare del nostro territorio, le nostre montagne sono ricche di acqua minerale, l'acqua ha una buona diffusione regionale perché ci sono già delle aziende, c'è un'azienda che da diversi decenni l'ha in bottiglia e quindi è un nome che è conosciuto a livello regionale e stiamo cercando di fare in modo che questa risorsa possa essere messa al servizio di uno sviluppo globale e complessivo della comunità mediante della realizzazione di un progetto che prevede la realizzazione di un albergo diffuso nel centro storico in modo da poter accogliere un tipo di turismo lento, un tipo di turismo di prossimità, un tipo di turismo esperienziale che appunto voglia immergersi per alcuni giorni nel nostro borgo. Lanciato il progetto MP Zingaro Scopello, obiettivo istituire un'innovativa area marina protetta sotto la costa dell'area dello Zingaro, c'è il servizio. MP Zingaro Scopello, il centro studio ISVAM di Palermo lancia una campagna di crowdfunding a favore dell'istituzione di un'area marina protetta dello Zingaro sotto la costa della riserva monima, la prima ad essere stata istituita in Sicilia a 40 anni or sono e ricadente quasi per intero nel territorio di San Vito Lo Capo nonché per una piccola percentuale di spazio in quello di Castellammare del Golfo. Un'associazione, la ISVAM, impegnata da anni in ricerca e sviluppo dell'agricoltura mediterranea sostenibile. Un progetto che mira la tutela ambientale come pure alla fruizione dei turisti attenti all'ambiente e che guarda anche agli operatori economici della zona. Fra le idee gettate su carta, la possibilità per gli stazionamenti controllati dei natanti a vela con campi di ormeggio munite di bui intelligenti e che non ne comprometteranno la Posidonia. Una certificazione di pesca sostenibile con il lancio di una campagna per il bollino pescato dello Zingaro che permetterà di acquistare il frutto di quelle acque dalle mani di una marineria responsabile che usa ancora sistemi tradizionali non invasivi e consentendo loro il guadagno di qualche euro in più. Ma anche immersioni didattiche, campi di volontariato e premialità economica agli operatori della piccola pesca costiera che avranno un ruolo attivo come veri guardiani della risorsa mare e che beneficeranno di vantaggi se conferiranno la plastica rimarsa incagliata nelle proprie reti. Ma anche il coinvolgimento di tanti volontari che si occuperanno di raccogliere le pedicolosissime plastiche abbandonate informando con materiali bilingua, turisti e diportisti sulle corrette pratiche di fruizione dell'area. Prevista l'istituzione di una caletta destinata alla pratica del naturismo, un progetto che prevede anche una semplice suddivisione in zone A, B e C con relative limitazioni imposte dalla legge. Prevista anche a giorni da presentazione del progetto a Palermo all'assessore regionale del territorio e dell'ambiente insieme ad un convegno sul futuro delle AMP, aree marine protette, un modo per abbinare riserva terrestre ed aria marina, dando così opportunità in più sotto il profilo produttivo e commerciale a piccoli produttori così come ai pescatori costieri. Basket la fortitudo non riesce a staccare il pass per la finale di Coppa Italia, complice anche la stanchezza agrigento non riesce a superare una rietia guerrita e attenta che si impone con il punteggio di 77 a 63. Adesso vi mostriamo i gol del Girone I della Serie D. Vediamo. Valanga di gol nella giornata prepasquale della Serie D Girone I che interessa la nostra Sicilia, ventiquattresima giornata, che ha visto la CR Messina battere la roccella per 5 reti a 1, la città di Sant'Agata 2, Castrovillari 1, la città novese 1, Rotonda 1, Marina di Ragusa 3, FC Messina 3, Sant'Agata 2, Castrovillari 1, Santa Maria Cilento 3, San Luca 2, Troina 4, Dattilo 0. La partita licata a calcio a Cirreale è stata rinviata per misure anti-Covid. La classifica vede la CR Messina in destra con 50 punti, seguita dall'altra squadra di Messina, l'FC Messina con 45 punti al secondo posto, il Gebbison Vallo della Lucania 44, la città di A Cirreale 41 pur con una partita in meno, Rotonda calcio 37, Calcio Biancavilla 34, Licata calcio anche lui con una partita in meno a 32, San Luca 32, Dattilo 1980 32 punti, la Polisportiva Santa Maria Cilento 31 punti, Calcio cittanovese 29, Paterno calcio 28, Troina 27, Città di Sant'Agata 27, Castrovillari calcio 24. Le ultime tre classifiche, il Rende con 21 punti, Marina di Ragusa con 20 e per terminare il Rocella con 14 punti. Seguiamo i gol. Grazie a tutti. 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 per essere stati con noi. A presto.